Un anno faticoso. L'aver scongiurato la perdita di fondi comunitari della programmazione 2007-2013 è il primo merito che il presidente della regione Mario Oliverio ascrive al suo governo. Parla l'Ital Press, Oliverio ricorda l'ultimo incontro con il commissario Cretu e gli apprezzamenti ricevuti, sottolinea gli obiettivi della programmazione 2014-2020 e poi i provvedimenti per il riordino di settori strategici, dall'urbanistica al trasporto pubblico locale. Ma che percorso è stato quello del governatore Oliverio ad oltre un anno dall'insediamento? Claudicante, accidentato, incerto, gli aggettivi si sprecano e lasciano il tempo che trovano. La realtà invece racconta che mentre il tempo scorre e gli alibi si esauriscono, la Calabria ancora ferma al palo da tanti, troppi punti di vista. Troppe energie e spese per litigare col commissario alla sanità Massimo Oscura e per restare in equilibrio sul filo sottile che lega i rapporti tra le correnti interne al Partito Democratico. Pochi, pochissimi risultati tangibili, giusto quelli evidenziati all'Ital Press. Da gennaio lavoreremo in direzione dello sviluppo, del sostegno alle imprese e soprattutto del lavoro, dei obiettivi su cui impegnare tutte le risorse disponibili, dice Oliverio, che augura un buon 2016 a tutti i calabresi. Spero sia l'anno, continua il Presidente, che possa vedere un impegno corale a far prevalere il lato positivo della nostra terra e a costruire condizioni di crescita e di lavoro con l'obiettivo di recuperare la fiducia necessaria per investire sul futuro. Già la fiducia, anche il tempo della fiducia è finito. Adesso servono i fatti.